ecco alcune scadenze della prossima settimana dal 18 al 24 novembre si svolge la settimana unesco di educazione alla sostenibilità 2019 dedicata ad un tema quanto mai attuale cambiamenti climatici e salute il 22 novembre alle ore 12 e il termine ultimo per presentare domanda per il bando di concorso il tacà dell'inps per ottenere una borsa di studio per soggiorni scolastici all'estero sempre il 22 è la scadenza per le scuole per iscriversi alle prove invalsi 2020 c'è tempo fino alle ore 16 e 30 infine ricordo che il 22 novembre si celebra la giornata della sicurezza delle scuole promossa da cittadinanza attiva arrivederci alla prossima settimana